questo è una la metà di uno rombo rombiamo in questo luogo sentite questa voce intanto guardatevi il rombo dove sto mangiando questo rombo questo rombo è stato appena pescato e cucinato sono in egitto o quasi finora non ho trovato neanche le spine allora vuol dire che l'egiziano ce le ha ce lo ha spinato bene o è un rombo particolare è perché sta nel mare di garbatella e le spine è garbato gli hanno levato tutte le spine perché questa è una pietanza particolare ed è un pranzo delle fate segrete fatta caramella fai sentire la tua voce veramente sto masticando non è vabbè oddio fatta carmatella poi capirai è piemontese no è lei quella del quadro della garbata o stella vabbè per oggi ho detto pure troppo